Forse è arrivato veramente il momento di alzare la voce riguardo alla mentalità, alla testa con cui la Samp scende in campo perché è incredibile vedere come cambi la squadra da una partita all'altra, specialmente in trasferta. Ci sono anche dei numeri che lo dimostrano, ma di questo ne parliamo tra pochissimo perché dobbiamo analizzare la partita. Un saluto a tutti gli amici del Corner Sampdoriano, prima di iniziare come al solito vi ricordiamo i nostri social su Instagram ci trovate come Corner Sampdoriano e vi ricordiamo che siamo live ogni mercoledì sera sulla piattaforma viola, quindi qualora vogliate seguirci ci trovate sulla piattaforma viola mercoledì sera ore 21, ma parliamo di questo Hellas Samp trasferta bellissima, come potete vedere ho anche preso la media del Verona una Samp che però in campo a Verona c'è scesa solamente i primi 40 minuti, una Samp che parte bene perché forse abbiamo intravisto qualcosina del vecchio 4-3-1-2 di Giampaolo, i primi 35-40 minuti abbiamo visto comunque una Samp abbastanza cattiva. Il Verona ha provato a sviluppare il gioco come al solito sugli esterni, ma è un Verona che comunque sa rendersi pericoloso quando è un giocatore che stiamo scoprendo piano piano ed è veramente un giocatore da tenere d'occhio, ne sentiremo parlare perché veramente abbiamo visto anche ieri come sa rendersi pericoloso. Ieri però aveva di fronte una Samp che se nei primi 35 minuti ha dimostrato di aver cattiveria, negli altri davvero è sparita. È veramente incredibile perché è più di analizzare la tattica, oggi bisognerebbe analizzare la mentalità, la testa perché gli stimoli ci hai, hai i tifosi che ti seguono, ieri 2000 persone che si sono fatte 6 ore di viaggio tra andate e ritorno per venire a vederti e davvero è difficile provare a giustificare i comportamenti di questi giocatori. Forse uno degli unici che abbiamo visto bene è Udero, perché ragazzi tra primo e secondo tempo Udero ha tenuto a galla la Sampdoria se non ci fosse stato lui ieri sarebbe finita 4-5-1 ed è questo quello che ci deve far preoccupare perché la Sampdoria ha dimostrato di essere disunita in una maniera incredibile ed è la stessa cosa di cui parliamo da settimana, una Sampdoria disunita tra centrocampo e difesa e abbiamo visto delle lacune anche nella fascia di ieri perché sappiamo benissimo che giocatore è Lazovic c'è Ilic che è un altro giocatore interessante ma mi concentrerai più sulle fasce perché Doig cosa ha fatto? Ha sfruttato il movimento di Lazovic che stava sempre sulla zona esterna del campo e si inseriva ed è poi abbiamo preso un gol da rimessa laterale ragazzi una Samp che prende gol da rimessa laterale una squadra di Serie A che prende gol da un'azione di rimessa laterale con la difesa totalmente scoperta vuol dire che veramente c'è qualcosa che non va, capisco la situazione societaria, capisco il momento è davvero quasi incommentabile una Samp che doveva assolutamente gestire meglio il pallone perché la Samp ha provato varie volte a verticalizzare senza successo con la Lazio aveva verticalizzato e meno male c'era riuscita perché comunque abbiamo visto quell'occasione di Cogliarella, diverse altre occasioni non a caso il gol di Gabbiadini contro la Lazio viene da una verticalizzazione di Riccone perciò forse lavorare un po' di più sulle palle in verticale piuttosto che quelle in orizzontale visto che hai una squadra per quello che abbiamo visto ieri veramente oscena forse quella è la strada io non mi sento di riproverare Gian Paolo perché comunque abbiamo visto una Samp Gagliarda molto unita nella prima parte di stagione nelle prime due o tre partite nelle ultime due abbiamo visto una Samp che piano piano si disunisce specialmente in trasferta perché la Samp in trasferta con Gian Paolo leggo i dati 14 vittorie e 16 pareggi 38 sconfitte da quando Gian Paolo lena la Sampdoria la Samp in trasferta non vince da Venezia a Sampdoria 2-0 doppietta di Caputo e questo è un dato che fa riflettere perché bisogna lavorare sulla testa dei ragazzi bisogna lavorare molto su questo perché se la Samp gioca bene con la Juve gioca bene con l'Atalanta e poi ti va a perdere partite fuori casa 4-0 a Salerno e 2-1 ieri con un risultato che vado a finire ancora più e peggio cioè vuol dire che bisogna lavorare veramente sulla testa dei giocatori vuol dire che c'è da fare un percorso perché la Samp ieri ripeto era disunita in campo ognuno giocava per i cavoli suoi Gambedini da quando è entrato ha protocato due o tre palloni e uno stava per far gol quindi cercare di spostare il gioco nelle zone in cui riusciamo a renderci più pericolosi potrebbe essere la maniera ideale facendo giocare Sabiri ancora più vicino alla porta come trequartista non mettendo più in campo Verre che è un giocatore che ieri è sceso in campo perché perché doveva entrare è entrato ha messo la gamba due o tre volte e basta è un giocatore di cui la Samp non ha bisogno che la Samp doveva vendere per magari creare spazio a qualcun altro la Samp non ha fatto tutto questo gestione societaria purtroppo lo sappiamo tutti e ne parleremo anche il mercoledì sera perché adesso bisogna parlare anche un po' di tutto perché se a cinque giornate hai fatto solamente due punti segnato due gol e ne hai presi nove dieci qualche problema c'è e io non sono molto tranquillo vedendo le prossime partite vedendo Milano scusate vedendo il Milan vedendo la trasferta di La Spezia perciò bisogna stare veramente molto attenti perché ieri era di fatto uno scontro diretto contro un Verona che in campo è sceso non con chissà che modulo semplicemente con gli esterni creando spazio nelle zone centrali del campo si allargava e creava dei corridoi incredibili che potevano supportare Dog Illich e tutti i mezzali del Verona che si stanno inserire molto bene il Verona è una squadra che è molto sottovalutata secondo me ci sono dei giocatori che noi non conosciamo molto buoni però se a questi giocatori lasci la libertà non sono fenomeni se a questi giocatori lasci la libertà di inserirsi di avvicinarsi alla porta i risultati sono come quelli di ieri Dog che va vicino al gol in due o tre occasioni nel secondo tempo Audero che deve fare i miracoli su Lazovic che ieri sembrava Ronaldinho quindi mi viene difficile parlare mi viene difficile restare calmo perché anche io ieri c'era a Verona e questa è la dimostrazione è davvero bellissimo vedere sugli spalti il gemellaggio spettacolare però quello che dobbiamo fare noi adesso è continuare a stare vicino alla squadra continuare a stare vicino alla Samp perché ci aspettano delle partite molto difficili con il Milan è obbligatorio venire allo stadio con lo Spezia non sarà una trasferta molto tranquilla perché non lo sarà però io probabilmente ci andrò in questi momenti bisogna stare vicino alla squadra per il resto tornando alla partita con l'Inverona c'è poco da dire perché abbiamo saputo renderci pericolosi in due circostanze nel secondo tempo con un tiro di puzzetto se non ricordo male che davvero se entra quello alla fine fai un punto però allo stesso tempo se Audero non ti para non ti fa quei miracoli potrà finire benissimo 5-4-1 quindi c'è da lavorare non poco una Samp che deve assolutamente ingranare qualche meccanismo a livello mentale perché se si va avanti così si fa veramente molta fatica davvero trovare migliori in campo a parte Emile Audero in questo momento è un minuto difficile abbiamo visto anche un Villar che non era riuscito ancora una volta a esprimersi al meglio poi è entrato l'Eri Sterzino abbiamo visto delle cose ieri davvero incommentabili però cerchiamo di rimanere vicini alla Samp anche in un momento così difficile perché davvero siamo nel periodo forse più brutto da quando la Samp è nata a livello di ambiente interno perché esterno noi tifosi è un ambiente davvero incredibile in positivo secondo me all'interno dello sbogliatoio qualcosina si sta rompendo a livello societario si è rotto qualcosa da mesi è evidente che ci sia ancora la figura di Ferrero è evidente perché se si vanno a fare gli auguri a un figlio a un nipote non mi ricordo di Ferrero vuol dire che la sua presenza c'è ancora ragazzi non nascondiamoci però cerchiamo di stare vicini alla Samp anche in momenti così difficili e spero di poter analizzare un Samp Milan più positivo perché davvero servono veramente tanti tanti punti a questa Samp per cercare di ripartire visto che comunque bene o male tutte le squadre sono attaccate il Bologna stasione a Randomijalovic quindi bisogna approfittare anche di questo campionato in cui davvero tutti ci stanno stupendo ora andremo ad affrontare un Milan che riduce dalla vittoria nel derby perciò sarà comunque molto interessante vedere come la Samp affronterà questa partita vi ringraziamo per averci seguito anche in questo video vi ricordiamo i nostri social coder tatinabasso samdoriano su instagram e vi ricordiamo ogni mercoledì sera ore 21 live sulla piattaforma viola da Mattia è tutto sempre forza